Si riaprono i rubinetti dei fondi per la ricostruzione post-terremoto. Ammonta a 4 miliardi spalmati nel triennio 2016-2018, la somma messa a disposizione dal governo nella legge di stabilità, mentre un altro miliardo e 800 milioni è previsto per il biegno 2019-2020. È uno degli elementi che più interessano al cabologo e al cratere sismico, contenuti in quella che una volta veniva chiamata legge finanziaria, dove l'Aquila è citata tra gli importi da scrivere in bilancio in relazione all'autorizzazione di spesa recate da leggi pluriannali. Se il buongiorno si vede dal mattino, è altrettanto vero che prima di cantare vittoria è necessario che arrivi l'approvazione definitiva dai due rami del Parlamento, dove già in passato tutti si sono detti favorevoli ad accelerare i processi di ricostruzione, salvo poi scontrarsi con piacevoli sorprese, specialmente da alcuni partiti nelle commissioni bilancio. Per il 2020, però, per il governo Renzi, la ricostruzione potrà verosimilmente ritenersi conclusa, considerata la dotazione finanziaria, prevista nella legge, dove sono stati inseriti anche residui di somme relativi ad annualità passate e non ancora impegnate. Se per l'ufficialità di queste somme, però, ci sarà da aspettare ancora qualche settimana, è prevista a giorni, invece, la pubblicazione da parte del Comune del tredicesimo elenco contenente i nominativi dei beneficiari del contributo per la riparazione o la ricostruzione dagli immobili danneggiati a sisma. Per ora, i 150 milioni sono previsti secondo il principio di competenza, quindi disponibili solo su carta, mentre per il principio di cassa sarà necessario un secondo atto, che riguarderà, però, anche la ricostruzione delle unità immobiliari situate nelle frazioni, in molti casi all'anno zero, dal punto di vista della rinascita post-sisma.